Ben ritrovati, in questa fase il governo Draghi sta cercando di avviare un confronto con le regioni proprio per rilanciare l'economia nel mezzogiorno con nuovi progetti, ma ci sono sicuramente misure che già consentono una sorta di ripartenza. Parliamo di Resto al Sud, questa misura che favorisce la nascita di nuove imprese, lo facciamo con il nostro esperto di economia Luca Iovine che è in studio con noi, ben ritrovato. In collegamento Skype invece abbiamo il dottor Gianmarco Verachi, responsabile service unit di Resto al Sud per Invitalia. Grazie dottore per la sua disponibilità. Grazie a voi, un piacere. Sentirei proprio da lei Verachi, insomma questa misura Resto al Sud è nata sicuramente da qualche anno, è già ottenuto risultati significativi, possiamo provare a tracciare anche un bilancio a questo punto? Allora sì, Resto al Sud nasce nel 2017, giugno 2017 è l'ambito temporale nel quale ci fu la legge istitutiva. Lo sportello operativamente si avvia il 15 di gennaio 2018 ed è stato un successo fin da subito per tante ragioni. Intanto la sua struttura smart è una misura interamente a fruizione digitale, semplice, regole semplici che sostanzialmente mettono al centro il beneficiario. L'obiettivo è quello di in qualche modo contribuire a drenare questa terribile emorragia demografica che attanaglia, affligge l'Italia, in particolare il Mezzogiorno e le fasce più formate e giovani della popolazione. Quindi questo era l'obiettivo con cui si partì con questo grande progetto, con una dotazione finanziaria veramente rilevante, 1 miliardo e 250 milioni di euro. A poco più di tre anni dall'avvio della misura il bilancio è certamente positivo, lo dicono anche i numeri, ad oggi abbiamo in compilazione sulla piattaforma oltre 20.800 progetti, circa 20.900 sono quelli già presentati, con investimenti richiesti che superano il miliardo e mezzo e progetti già approvati per un numero che è pari a circa 7.800. Per cui direi che i numeri parlano da sé, la misura viaggia, viaggia con un ritmo importante, abbiamo valutato progetti interessanti su diversi settori, poi magari su questo ci torniamo dopo, e visto che sono ospite di una trasmissione campana, vi anticipo già che in campania i dati sono particolarmente significativi. Tra qualche secondo, intanto Luca Jovene, quanto è importante una misura del genere anche per superare questa fase di crisi che stiamo vivendo? È molto importante perché le persone hanno bisogno di essere incoraggiate, hanno bisogno di ottimismo e molto spesso questa voglia di fare, questo ottimismo nasce da chi ha di meno, perché vuole riscattarsi, vuole rinascere, vuole mostrare le proprie qualità e le proprie competenze. E questa iniziativa, questo progetto di Invitalia che segue a precedenti iniziative che nascono da lontano con la IG, la Società per l'imprenditoria giovanile, che poi si è trasformata diventando poi Invitalia, ha generato tante risorse imprenditoriali, ha creato tanta occupazione e soprattutto ha consentito al capitale umano del Sud di essere valorizzato nel Sud, nel suo territorio, creando occupazione, creando sviluppo e creando sentimenti positivi verso anche il Paese, che è la cosa più importante. Scendiamo nei particolari di questa misura, resto al Sud, tornando dal dottore Veranchi, quali sono soprattutto, dottore, le novità, le nuove opportunità per chi vuole sfruttare questi incentivi, soprattutto che tipo di procedure vanno seguite, sostanzialmente cerchiamo di scendere nel dettaglio di questa iniziativa. Effettivamente la misura ha avuto un suo sviluppo nell'arco del tempo, ha seguito anche il cambio di scenario che purtroppo negli ultimi tempi si è fatto drammatico. Nasce come una misura destinata a un target prevalentemente giovane, la prima versione di resto al Sud infatti prevedeva un tetto di età di 36 anni, poi con i successivi passaggi normativi la platea in termini di età è stata ampliata ed è stata portata ad oggi con l'ultima finanziaria fino ad un tetto massimo di 55 anni. Chi può presentare domande sul resto al Sud? Al momento della presentazione della domanda diciamo che gli aspiranti beneficiari non devono aver compiuto i 56 anni, devono risiedere nelle otto regioni del Sud, quindi dall'Abruzzo fino alle isole oppure nei comuni dei cratere sismico del centro Italia, anche questo è un ampliamento della platea che si è avuto nel corso del tempo. Se non risiedono nelle aree obiettivo devono trasferirvi la residenza entro 60 giorni oppure 120 sede residenti all'estero dall'esito positivo dell'istruttoria. Non devono essere titolari di altre attività di imprese in esercizio al 21 giugno 2017, non devono aver ricevuto altre agevolazioni nazionali nell'ultimo triennio e non devono avere un tempo indeterminato oppure impegnarsi a dedicarsi ovviamente al progetto di impresa presentato qualora il progetto fosse approvato. Le agevolazioni sono rivolte alle imprese costituite dopo il 21 giugno 2017 oppure a quelle costituende, quindi che si costituiranno entro 60 giorni o 120 in caso di residenza all'estero all'esito positivo dell'istruttoria. Dalla finanziaria di qualche anno fa, del 2020 e 2019, perdonatemi, è possibile anche, la misura si è ampliata anche ai liberi professionisti, quindi anche la platea delle professioni fa parte del target Resto al Sud. Settori finanziabili tutti, ad esclusione di commercio e agricoltura. Qual è il mix agevolativo che è particolarmente interessante della misura? Per il programma di spesa interamente coperto dalla misura agevolativa si può arrivare fino a un massimo di 200 mila euro, il 50% è a fondo perduto, il restante 50% è un finanziamento bancario con un piano di ammortamento di 8 anni, di cui 2 di pre-ammortamento, questo per i nostri utenti significa che per i primi 2 anni dall'avvio di impresa non si pagano le tasse. Il finanziamento bancario è garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Questo fatto ha battuto di fatto il muro dell'accesso al credito, che è un altro problema serio del mezzogiorno. Col decreto rilancio e successiva conversione in legge sono avvenute ulteriori modifiche e il mix agevolativo ci è ulteriormente arricchito. Quindi oltre la copertura del programma di spesa per le imprese che completano il progetto imprenditoriale secondo quanto approvato, contestualmente all'erogazione del saldo e quindi alla nostra verifica in sede viene erogato un ulteriore contributo in conto, un contributo di liquidità a valere sul circolante che può arrivare fino a 40 mila Euro quando la compagine sociale è composta da 4 soci. Prima vi ho detto che il tetto massimo dell'investimento è 200 mila Euro, come si compone questo tetto massimo? Quando si hanno 4 soci con i requisiti, la norma infatti prevede che per ogni socio avente requisiti vi è un contributo di 50 mila Euro. Altro cambiamento portato avanti dalla conversione in legge del decreto rilancio per le ditte individuali o comunque per le imprese esercitate in forma individuale, anche per le libere professioni esercitate in forma individuale, si è innalzato il tetto massimo dell'investimento possibile che è 60 mila. Quindi 60 mila Euro per le ditte esercitate in forma individuale, fino a 200 mila Euro con 4 soci e 20 requisiti per le società, tutte le forme societarie e anche le società cooperative sono ammissibili e in più alla fine è un ulteriore contributo interamente a fondo perduto fino a 40 mila Euro laddove ci sono 4 soci oppure 15 mila Euro per le ditte esercitate in forma individuale come contributo per davvio dell'attività, questo è un contributo che è stato inserito, un ulteriore contributo che è stato inserito proprio per le grandi difficoltà che le imprese devono sostenere a causa del terribile flagello Covid. Poi parleremo soprattutto dei progetti che riguardano la nostra regione, intanto Luca Giovene l'aspetto della novità più significativa è quello relativo all'età, aver alzato il limite a 55 anni, che riflessi potrà avere, che cosa significa, non sono più i giovani che devono mettersi a questo punto in discussione. Molto perché fino a pochi anni fa, fino a queste nuove modifiche soltanto i giovani potevano investire e aprire una nuova attività e tanti adulti che avevano magari maturato esperienze lavorative importanti non potevano mettersi in proprio e provare a scommettere sulle proprie qualità professionali. Quindi questa è una modifica che accoglie un'istanza che proveniva dal mercato e dalla comunità, tante persone adulte che volevano mettersi in proprio, che non avevano la disponibilità economica per farlo, oggi lo possono fare e magari avere quei soldi che possono servire per acquistare i macchinari o per acquistare anche le materie prime iniziali per iniziare i processi produttivi, con un contributo che appunto, come diceva prima il dottor Veracchi, insomma diventa davvero interessante perché il 50% a fondo perduto vuol dire che tu prendi dei soldi da Invitalia, dallo Stato e non li devi restituire. L'altro 50% lo restituisci in otto anni, mi sembra insomma davvero una buona opportunità anche per chi magari ha le competenze, ha le qualità e però non ha le risorse economiche per avviare i suoi progetti d'impresa. Quindi è una grande opportunità. Se posso intervenire, sentite un giusto passaggio, io viene a decisamente ragione, cioè questo strumento investe sulle sfide, sulle competenze che vanno al di là dell'età, si è partiti quei giovani ma si è constatato che la crisi che viviamo ha interessato anche le fasce di età media che si sono viste espulse dal settore del mercato del lavoro, anche con grandi competenze, per cui questa è una misura che si chiama Resto al Sud, ma che io non perdo occasione di dire che è anche Torno al Sud, perché ha richiamato tante risorse che si erano spostate dai nostri territori dove noi avevamo investito tanto anche nella formazione, possono tornare e sono già tornate. Guardate che la percentuale di rientri con Resto al Sud è davvero interessante, si attesta intorno al 10% di nostri concittadini del Mezzogiorno d'Italia che dopo aver fatto esperienze nel nord Italia ma anche all'estero hanno deciso di puntare sul loro territorio d'origine e fare attività di impresa, portando con sé le competenze maturate in contesti magari più floridi, più ricchi di scambi. Questo è un grande arricchimento che va nella direzione da cui sono partito, quello di frenare l'emoragia demografica, investire sui talenti e trattenerli volontariamente sui nostri territori. Questo è un punto che a me preme tanto sottolineare, cioè quando noi andiamo a promuovere questi strumenti dobbiamo certamente raccontare ai nostri utenti il grande appeal che hanno questi mix agevolativi altamente vantaggiosi, ma bisogna ricordare a tutti che ci vuole competenza, talento e tanto, tanto, tanto impegno per portare avanti un'impresa. Non è una lotteria, è una partita molto seria e infatti noi nella valutazione abbiamo un approccio molto serio. Parlando della Campania, quali sono stati gli effetti di resto al sud? C'è stato un progetto, una iniziativa imprenditoriale che l'ha colpita più delle altre? Guardi, la Campania la fa da padrona. Io credo che sia un dato ricorrente in tutti gli strumenti agevolativi e sfaterei anche il mito non sempre favorevole sulla Campania. Io penso che sia una regione altamente evocata all'imprenditorialità, anche per ragioni forse di necessità e dalla Campania sono arrivati tantissimi progetti interessanti. Mi dispiace indicarne soltanto uno perché farei torto agli altri, ma la gamma è veramente vasta. Andiamo da attività veramente tradizionali, di prossimità a situazioni nelle quali attraverso il resto al sud dei nostri con cittadini sono riusciti con orgoglio, forza, carattere ad emergere da situazioni magari di lavoro nero, ad altre situazioni invece realmente in linea coi tempi, molto avanzate dal punto di vista tecnologico. C'è un'impresa proprio dell'area di Napoli che dopo qualche tempo che si è inserita sul mercato, già ha clienti e committenti importanti, opera nell'ambito delle verifiche e dei rilievi anche sul settore navale con metodologie abbastanza innovative e ripeto si è già accaparrato un mercato di clienti molto importanti a livelli di fatturato interessanti. La ristorazione, abbiamo esempi rilevanti di ristorazione veramente di qualità già inseriti nelle filiere migliori delle nostre varie agenzie che valutano il prodotto ristorazione. Ricettività diffusa, attività a servizio dello sport e del tempo libero, molte attività green. Mi pare che la domanda sia anche abbastanza cambiata rispetto a quella che incontravamo qualche tempo fa, con qualche resistenza rispetto all'approccio alle misure agevolative che comunque nel tempo contiamo di superare con il supporto dei territori. Torno ancora sul messaggio di prima, è molto molto importante che noi lanciamo il messaggio che per fare impresa non è sufficiente avere un supporto pubblico, anche importante, ma bisogna metterci energia, impegno, serietà, abnegazione e tanta competenza. Siamo in chiusura, Luca Jovene, con la tua società di consulenza aziendale, su quali progetti state lavorando rispetto a questa misura di resto a sud? Stiamo lavorando in generale sulla divulgazione del concetto di autoimprenditorialità, sul falpassare in particolare ai giovani che il posto fisso non c'è più e ormai da decenni e che quindi devono puntare su qualche cosa di diverso, di nuovo e possono puntare anche all'autoimprenditorialità. Lo facciamo nelle università, lo facciamo nelle scuole e sicuramente il resto al sud è la misura migliore per poter mettere a frutto le proprie intelligenze, le proprie competenze e soprattutto, come diceva anche il dottor Veracchi, la propria determinazione grinta. Fare l'imprenditore non è un'attività per tutti, è un'attività per chi è disposto a sacrificarsi, a lavorare molto di più di quello che normalmente si fa, perché per costruire la propria impresa bisogna davvero dedicarsi dalla mattina alla sera a quello che si fa. Anche noi quando facciamo attività di supporto e di assistenza alle aziende nell'attività di creazione di impresa, lo spieghiamo questo, perché non è possibile fare impresa pensando di lavorare poche ore al giorno o soltanto nel fine settimana. C'è bisogno di di dedicarsi anime e cuore al lavoro e noi a proposito delle realtà che stanno per nascere, molte di queste realtà, come diceva anche Veracchi, è vero, sono legate molto al green, all'ambiente, al contesto nel quale si lavora. Per esempio c'è un'azienda che adesso farà noleggio barche, che presenteremo una sua domanda per finanziare un noleggio barche, un'attività green e poi c'è un giovane imprenditore che vuole fare un'attività di macelleria e braceria in collina, valorizzando appunto il territorio montano nel Salernitano, che è notoriamente molto conosciuto per il mare, ma in realtà lui vuole valorizzare anche la montagna. Questo è molto bello perché appunto dà la possibilità di creare valore in un contesto diverso dal solito. Sono sicuramente sfide molto interessanti, ma è stato importante oggi far conoscere queste opportunità che ci sono per rilanciare la nostra economia. Per questo ringraziamo in maniera particolare il dottor Gianmarco Veracchi, responsabile di Resto a Sud per Invitalia. Grazie dottore per la sua partecipazione a questa nostra rubrica. Ringrazio a voi e ai vostri ascoltatori, è stato un piacere. Grazie, grazie mille, grazie come sempre al nostro Luca Iovine. Io ringrazio per noi il reggito Aldo Fenizia e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci. Grazie.